Io ho centuplicato le risorse sulla povertà, diceva Giulia prima, non bastano. Io ho fatto una serie di iniziative che rivendico la legge sul terzo settore, la legge sulla cooperazione internazionale, tutta una serie di investimenti in questo mondo perché penso che sia il mondo del futuro. Ma dire che misura di contrasto alla povertà, assumere qualche migliaio di navigator e non fargli fare niente, per me la priorità oggi è prendere i soldi del PNRR, cioè del Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, e inserirli su che cosa? Su dei progetti che creino posti di lavoro, perché noi siamo qui a discutere. Ma 422 famiglie della GKN di Campi Bisenzio, per citare la più grande crisi occupazionale appena aperta, ma potremmo parlare dalla provincia di Brescia, quella di Napoli, ai casi di multinazionali che stanno chiudendo nel nostro territorio, sono campanelli d'allarme. Se chiudono multinazionale è un segnale che intanto queste multinazionali hanno ben pochi scrupoli, ma dall'altro che il nostro territorio deve diventare più attrattivo.